Il presidente di un'industria a Calabria, Aldo Ferrara, accompagnato dal direttore Dario Lamanna, ha incontrato il presidente della regione, Roberto Chiuto, al fine di proseguire, con sempre maggiore slancio e determinazione, un dialogo proficuo all'insegna di una forte comunione di intenti sui diversi e strategici temi del momento, anche alla luce dei mutati scenari degli ultimi mesi. Ne dà notizia un comunicato dell'Associazione degli Imprenditori Calabresi. È stato condiviso come la cabina di regia non debba limitarsi ad un semplice monitoraggio degli avanzamenti, ma deve assurgere ad un ruolo di governance strategica che consenta di orientare e contribuire a mettere a terra la grande quantità di risorse sopra evidenziate. Investimenti strategici per orientare la programmazione complessiva verso obiettivi di politica industriale capaci di generare crescita di lungo periodo, evitare il sovrapporsi delle misure su specifici interventi, generando una sorta di effetto sostitutivo che neutralizzi e sottragga risorse finanziarie da impiegare in altri ambiti, impedire il verificarsi dell'effetto shopping list, ma inquadrare gli investimenti in un disegno armonioso e strategico di sviluppo che si indirizzi verso nuove tecnologie con un contestuale rafforzamento delle competenze e del capitale umano. Ancora, fornire supporto agli enti territoriali più fragili, garantendo quell'assistenza tecnica indispensabile ad un'efficace utilizzazione delle risorse, semplificare i processi burocratici e amministrativi, rafforzare i presidi di legalità e sicurezza anche attraverso la tracciabilità delle risorse affinché venga assicurato che il relativo impiego confluisca correttamente nell'economia sana. Sorical, Sacal, aree industriali, ZES, attrazione degli investimenti e rigassificatore di Gioia Tauro, ancora nel quadro di questo confronto schietto e costruttivo.